ragazze buonasera buon lunedì 12 di dicembre il freddo incombe l'inverno sta per arrivare ragazze noi siamo pronte anche per il natale perché oltre all'inverno arriva pure il natale che dirvi che domani è altro scarico altri new entry altri riassortimenti perché gli articoli veramente vi stanno piacendo tantissimo vi state facendo un sacco di regali ne sono contenta veramente tanto allora veloce veloce ripassati la look of the day di oggi che abbiamo già visto perché questo maglioncino ragazze ve l'ho fatto già vedere ma io ve lo faccio rivedere perché è fantastico lo amo lo adoro bello a parte che mi piace tantissimo il colore questo verde menta verde acqua ragazze bello 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 ma soprattutto questa giornata ve lo devo dire caldissimo veramente fantastico soffice morbido la lunghezza è quella giusta da mettere sopra un pantaleggings ragazzi il pantaleggings punto milano è perfetto anche per questa giornata fredda perché comunque mi accosta il tessuto è veramente caldo confortevoli questo maglioncino ce l'abbiamo ancora disponibile e poi comunque day holy day holy holy day yes ragazzi bellissimo disponibile nella versione rosa ma che cos'è con questa bellicetta rosa ultra soffice una cosa incredibile disponibile ancora nella versione bluetto e ovviamente disponibile nella versione verde acqua proprio come il mio taglia unica ottima la vestibilità e ragazzi top per questa giornata ultra fredda che ha fatto oggi incredibilmente fredda non ultra fredda ancora di più veramente fantastico ma oggi vorrei concentrarmi un pochino mie belle ragazze sulla collezione natalizia ma che dico natalizia inverno andare a cena fuori ci si può abbinare tranquillamente lo shorts che è in tessuto comfort che in taglia unica che ha l'elastico in vita che rimane morbidino che ha la cintina ecco con questo per esempio ci sarebbe benissimo perché ha la cintina di tessuto che è dello stesso colore quindi è tinta unita nera ma volendo la cinta si può anche cambiare perché quella comunque è separata e poi per esempio ragazze scusate ma il maglioncino a collo alto col cuore che è un amore questo rimane pure cortino quindi su un pantalone a vita alta sta benissimo ma non ce lo vogliamo mettere su un bel jeans ma che dico su un jeans direttamente guardate che carino sul pantalone a palazzo in ecopelle il pantalone a palazzo è quello che sta in promo poi a 14 euro il 99 che voi sapete io ve lo dico sempre il pantalone in ecopelle è idrorepellente è felpato è fantastico per questo inverno oppure sì è glitteratina sì è delizioso a parte che ha una vestibilità eccezionale quindi anche se avete il seno grande ragazzi è veramente deliziosa poi è leggermente glitteratina dici sì per le giornate di festa ma si può splendere anche se non è una festa eh ragazzi parliamone parliamoci chiaro questa ce l'abbiamo disponibile questa blusa in taglia unica modello over che rimane veramente morbidissima disponibile nella versione nera disponibile nella versione rossa che sia un pochino più festa però tutto sommato io ve lo dico sto cominciando a mettermi anche il rosso avete visto già ho messo sabato il maglione questo qui con i pupazzi di neve e la neve è infatti arrivato il freddo ragazzi ma tanto era inevitabile che arrivasse non dite che sono stata io ce l'abbiamo disponibile anche nella versione rossa questo mi fa molto anni 80 io li adoro questi maglioni e poi comunque sono di filo quindi sono belli caldi perché non è soltanto natale cioè scusate ragazze ma una bella camisettina scozzese guardate che delizia sì la base è rossa e quindi ricorda un pochino il natale ma perché non la possiamo mettere in tutto l'inverno anche abbinata a un bel maglioncino latte che riprende la colorazione delle righine non la possiamo mettere sotto un bel cardigan nero magari su un pantalone ti è guarda che completino cardigan nero camisettina scozzese pantalone latte e non è carino da ufficio ma a parte la cintura del pantalone che ovviamente si può togliere però su un pantalone latte senza la cinta guardate che carino che completo scusate ma mica c'è scritto buon natale e non è fantastico anche per tutti i giorni secondo me sì anche perché poi la camicia è in tessuto di crepe è taglia unica ha una buona vestibilità e per esempio magari nei giorni per tutto l'inverno proprio per dare quel mood inverno anni 80 un po un po retro guardate che carino pure questo con le renne bello questo lo farò vedere a breve indossato perché ragazza me lo sto prendendo delizioso anche per andare sulla neve anche per fare la settimana bianca chi è che va a fare la settimana bianca che va a sciare ma vuoi mettere in baita una bella tazza di tè caldo di cioccolata calda con quel bel maglioncino delizia mi piace tantissimo poi volendo ragazze di scozzese c'è arrivato anche il pantaleggings a vita medio alta questo modello qui va a taglia alla fascia veste benissimo carino 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 anche da mettere perché no con una maglia con il nodo questo guarda che con in queste giornate invernali e ultra fredde ragazzi a questo punto io vado a reggiano la versione mi raccomando occhi aperti perché come avete visto già da questa mattina abbiamo cominciato a caricare le foto di tutti gli articoli nuovi che abbiamo scaricato in questi giorni ci vediamo da manuale è tutto ciao questa maglia qui poi con il nodo che ha una vestibilità eccezionale è proprio come quella con il nodo che abbiamo lavorato tantissimo a partire da quest'estate se non mi sbaglio l'abbiamo stra vendute perché vestono veramente bene si possono regolare per quanto riguarda la lunghezza ma anche per quanto riguarda la morbidezza per del punto vita ce l'abbiamo disponibile nella versione nera e nella versione rossa ovviamente non ce la facciamo scappare anche di questa qui la versione rossa perché oh ragazze e la festa è festa è mi raccomando allora io ne ho di tanti 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 di articoli da farvi vedere ma siamo a ridosso della chiusura del punto vendita ci vediamo domani mattina così vi faccio vedere che cosa abbiamo riassortito che cosa ci è arrivato di nuovo e continuiamo a scoprire quali sono gli articoli e per vestirci a festa in queste giornate che comunque stanno per arrivare di ilarità e di gioia ma soprattutto per vedere